AISA Impianti apre alla formazione e lo fa grazie all'accordo di collaborazione stipulato con AFORSAS, la società di formazione specializzata in corsi per la conduzione di grandi caldaie. Siamo aperti anche alla formazione perché il territorio ha bisogno di ricevere delle risorse come risposta alla nostra presenza. Risorse che in questo caso attraverso un'agenzia di formazione della Lombardia con cui abbiamo stretto un accordo sono direttamente riversate a persone che necessitano di acquisire competenze in temi estremamente tecnici. L'impianto di San Zeno ospiterà la sede dell'agenzia e i corsi, in particolar modo la parte pratica, con una ricaduta diretta per i futuri tecnici del territorio. A ogni corso ci saranno tre posti disponibili quindi ci sarà una ricaduta positiva in tale termine. Questa è la struttura del percorso formativo in grado di fornire personale altamente qualificato e molto richiesto dal mercato del lavoro. A seconda del grado di formazione si arriva a fare fino a 160 ore e la parte pratica viene fatta presso i generatori tendenzialmente dell'azienda o presso AISA che si arriva fino ai 460-480 ore di parte pratica. La cosa potrebbe essere molto interessante perché si può aprire questa specifica a disoccupati dove formandosi possono accedere al mondo del lavoro oppure anche riqualificarsi, quindi persone che vogliono riqualificarsi non più giovanissime e trovare un'attività.